Fornire acqua sana e pulita in tutti i paesi del mondo è l'obiettivo dell'associazione Acqua Plus che dal 2015 opera in diversi paesi del mondo con progetti strutturati. In occasione della giornata mondiale dell'acqua che si celebra ogni anno il 22 marzo, l'associazione ha deciso di organizzare un convegno presso il Politecnico di Milano per parlare proprio di questo tema e di sostenibilità. Ultima bozza ha seguito l'evento Intervistandi Relatori, rimanete connessi per scoprire tutte le interviste. Grazie per la visione!